Buongiorno a tutti, siamo Fomitato USP, ci troviamo via Abbiatina, l'ortatoria fordia francelliera. Avevamo messo già questi fratelli nell'ambito di una ipotesi del maledetto inceneritore proposto da battieri. Stamattina siamo stati avvisati che c'erano dei mezzi pesanti in azione all'entrata di questo terreno. Come vedete ci sono dei lavori in corso, abbiamo parlato con alcuni operari, operatori. Brutta notizia, c'è stato detto che hanno l'incarico di fare dei sondaggi nel sottosuolo di questa area. Per quanto ci riguarda brutte notizie, la vigilanza a questo punto deve veramente aumentare.